Tanfoyo Stock 2 Optic Ready. Vedremo quali sono le caratteristiche di quest'arma, perché ha senso scegliere questo modello e ancora come montare un Red Hot e quali sono i vantaggi di questi sistemi di puntamento. Iniziamo! Grazie a tutti! Ciao ragazzi e bentrovati! In questo video vedremo la presentazione della Stock 2 Optic Ready. Monteremo il sistema di puntamento elettronico e lo proveremo a fuoco assieme ad una novità che lanceremo in questo video con una promo dedicata. Ma ora direi di partire dalla protagonista del video, ovvero la Tanfoyo Stock 2 Optic Ready. Come potete vedere si tratta di una Stock 2 a tutti gli effetti, con tutte le stesse identiche caratteristiche della versione con mire metalliche. L'unica eccezione è qui, nella zona della tacca di mira, dove è presente una fresatura sul carrello che permette l'alloggiamento del sistema di puntamento elettronico. Allora adesso vedremo tutto nel dettaglio quindi dimensioni, quote, piastra, fissaggio della piastra eccetera eccetera. Prima devo fare due precisazioni importanti rispetto a delle domande che poi arriveranno. La prima è su quali modelli si può fare questa lavorazione? Su tutti quelli della famiglia Stock, ovviamente su richiesta. Verrà fatta la fresatura per l'alloggiamento dell'ottica. La seconda domanda è che pistola è questa? Come è montata? Bene, questa qui è una Stock 2 normale sulla quale ho scelto, su richiesta, di montare tutti i componenti della linea Xtreme. Quindi al di fuori, cioè al di là, perdonate, della brunitura, qui rimane la versione cromata, tutto il resto è uguale alla pistola che abbiamo utilizzato circa un annetto fa per fare il video recensione della Tanfoyo Stock 2 Xtreme. Quindi se volete capire meglio le caratteristiche tecniche dell'arma, quali accessori montare o no e vedere i pesi di scatto e tutte le altre prove che abbiamo fatto, comprese le prove a fuoco, vi rimando a quel video perché oggi, in questo video, vedremo come funziona il sistema di puntamento e le caratteristiche vincenti di questa soluzione. Iniziamo a considerare quali sono le possibilità che ci permettono di montare un sistema di puntamento elettronico su un'arma corta. Abbiamo due possibilità, la prima è sicuramente la più versatile, no, non la più versatile, è quella fattibile su tutte le armi con un costo molto contenuto. Si tratta di quella soluzione che prevede lo smontaggio della tacca di mira e il rimontaggio al suo posto di una piastrina, riportante quindi la coda di rondine che combacia con il tipo d'arma e su quella piastra andremo poi a montare il sistema di puntamento. Ne consegue che dall'altezza della tacca di mira ripartiremo con la piastrina e quindi sopra avremo il sistema di puntamento. Ecco che andremo a creare, questo è uno dei problemi principali, andremo a creare un importante disallineamento del sistema di puntamento rispetto all'asse canna. Questo argomento è quello che in gergo e in maniera errata viene chiamato parallasse ed è quell'argomento che vedremo in un video dedicato perché merita diciamo di essere seguito in maniera e spiegato in maniera un po' più approfondita. Genera un problema molto importante durante l'azione di fuoco, perché in funzione della distanza e del bersaglio, della difficoltà del bersaglio che dovremo colpire dovremo essere in grado di acquisire immediatamente l'entità di correzione da portare per andare a azzerare questo disallineamento. Lo spiegherò meglio in un video dedicato. Altro problema importante è relativo alla versatilità che dicevamo prima, cioè per montare, smontare la tacca di mira e montare questa piastra è necessario un po' di manualità e dell'attrezzatura e comunque aumenta tantissimo il rischio di rottura perché dovremo compiere un'azione meccanica per battere fuori la tacca di mira e reinserire questa nuova piastra che sicuramente logorerà i componenti in maniera importante, quindi non è una soluzione che si presta a poter essere diciamo cambiata nel tempo più volte. Dall'altra parte invece abbiamo queste nuove soluzioni che prevedono appunto una fresatura importante sul carrello che adesso vedremo nel dettaglio tale da permettere di attaccare, posizionare il sistema di puntamento quanto più basso possibile quasi ad eliminare quell'effetto di disallineamento di cui parlavamo prima. E qui arriva il bello perché uno dice vabbè la fresatura ok ma come cacchio fissiamo il sistema di puntamento su quella fresatura? Con una piastrina. Bene quindi ci sarà una piastrina sulla quale va fissata l'ottica che andrà a sua volta fissata sul carrello ma a questo punto da che abbiamo una piastrina che tiene il sistema di puntamento elettronico possiamo averne una che tiene anche la tacca di mira e qui arriva la versatilità massima di questa soluzione ed è il motivo per cui mi sento di consigliare questo tipo di soluzione scusate la ripetizione a tutti coloro che iniziano perché con la versatilità e la facilità che ha di montaggio e smontaggio potrete avere una pistola che si presta a fare tante più cose o perlomeno a provare dei contesti diversi. Dopo vedremo quali sono i punti di forza dei sistemi di puntamento elettronico e perché adesso sono tanto in voga. Comunque tornando a noi avremo queste piastrine sulle quali sarà montato o la tacca di mira o il sistema di puntamento elettronico che andranno semplicemente svitate e sostituite. Ecco quindi che con un'unica arma avrete la possibilità di utilizzare due versioni diverse quindi quella con mire metallico quella con sistema di puntamento elettronico e in entrambi i casi non sarà più necessario avere la manualità e l'attrezzatura per poter fare quelle determinate lavorazioni meccaniche che tanto logoravano i pezzi che abbiamo accennato prima. Qui si tratterà assolutamente di svitare e riavvitare la soluzione che vogliamo adoperare ecco perché questa soluzione scusate ripetizione ha superato sulla destra la vecchia soluzione quella che abbiamo presentato prima dell'attacca su vabbè eccetera eccetera. Il mirino anteriore non ha la fibrotica ed è più alto del normale dello standard perché? Perché avendo la possibilità appunto di alloggiare il sistema di puntamento elettronico molto più basso è stato scelto di tenere un mirino più alto così che qualora non dovesse più funzionare il dot avremo la possibilità di traguardare comunque dal sistema di puntamento il mirino e utilizzare quindi l'arma. proprio per questo motivo è stato scelto però di non mettere la fibra ottica che andrebbe a creare problemi fra virgolette perché potremmo vedere sia il puntino rosso del dot che quello del mirino e quindi per questo motivo abbiamo un mirino cieco. Ora vediamo come è fatta questa piastrina e come si va a fissare. Bene vediamo quindi come montare e smontare queste benedette piastre. Per smontare la piastrina dovremmo allentare le due viti che sono poste qua sotto la tacca di mira assieme a questa quindi dovremmo allentare completamente questa vite. Consiglio per avere un'indicazione pressoché precisa. Bene vediamo quindi come montare e smontare questa benedetta piastra. Dovremmo allentare questa vite più le altre due sotto la tacca quindi abbiamo necessità di svitare completamente questa vite per svincolare la tacca di mira e poter quindi svitare le altre due viti. Per avere una regolazione nel momento in cui dovessimo poi rimontarla vi consiglio di avvitare fino in fondo prima di smontarla contando quanti clic ci sono in maniera che poi una volta rimontata contando gli stessi clic dalla battuta in su ritroverete la posizione corretta quindi da qui andiamo a contare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eccetera eccetera arrivati in battuta e contato il numero giusto di clic che abbiamo fatto magari ve li segnate da una parte e poi procedete allo smontaggio ok quindi tolta la vite attenzione alla molla qui andiamo a mollare questa vite attenzione che potrebbe essere presente del frena filetti io avevo preventivamente scaldato un attimino per evitare di andare a rovinare le viti ok a questo punto abbiamo tolto le viti rifisso con un paio di giri la vite giusto per non perdere la molla e a questo punto la piastrina con la tacca di mira è smontata la conserviamo da una parte assieme alle viti alle relative viti a questo punto siamo pronti a rimontare la piastrina questa qua una piastrina fatta apposta che permette una volta fissata sull'arma di alloggiare più di dieci sistemi di ottica differenti tramite i vari fori che poi andremo a vedere nel dettaglio tutto questo è riportato in questo in questo foglietto perché quando ho aperto la valigia la prima volta detto che cazzo sono tutte queste viti hanno paura che sia scemo che invece no è perché ogni sistema di puntamento ogni sistema imputamento elettronico quindi in base al marchio il modello ha una posizione sulla piastra e in base alla posizione avremo il numero relativo della vite da montare la posizione eccetera eccetera altra cosa importantissima ragazzi allora se dovesse succedere qualcosa nello smontaggio rimontaggio c'è il video dedicato per vedere come rimontare sicura del percussore tutti i componenti questa che vedete questa mollettina è la mollettina della sicura del percussore non vanno toccate da lì dovete essere molto precisi nel rimontare vedete che c'è uno scanso che andrà a fungere da invito per appunto la molla e la relativa sicura ma qualora dovessero esserci problemi ripeto è una stupidata da rimontare c'è un video dedicato a questo punto andiamo a fissare la piastrina con le tre viti di prima prima di andare a tirarle un accorgimento è quello di appoggiarle sul fusto ci sono comunque dei dei centraggi che non ho indicato ma si intravedono forse da questi due fori quindi è impossibile sbagliare la posizione però prima di andare a serrare le viti è consigliabile prima appoggiare e una volta andiamo a tirarle vi consiglio sempre di utilizzare del freno a filetti per queste cose qua non quello forte al massimo quello medio non andate oltre a quello medio che comunque necessita poi di essere scaldato per essere smontato bene a questo punto siamo pronti ad individuare qual è il foro e quindi la vite di riferimento per andare a montare la nostra ottica che adesso vi faccio vedere l'ottica che useremo oggi è la z r6 di toni system dove sta per 6 moa esiste poi anche la possibilità di averlo in 2 4 6 8 10 o 16 moa e i moa e la taratura di questi sistemi di puntamento con un po particolare la vedremo in un video dedicato quindi dove spiegheremo anche il famoso disallineamento dell'altra volta come compensarlo eccetera eccetera nella scatola troviamo appunto il sistema di puntamento detto anche volgarmente punto rosso con il suo coperchio adesso andremo ad aprirlo e abbiamo anche una basetta adatta per la slitta piccatini da poter applicare su fucili o pistole insomma in funzione di quello che vi serve con le relative viti di fissaggio e è una viti di fissaggio dell'ottica sulla basetta è una basetta con sgancio non rapido però insomma movibile quindi una volta che andrete ad allentare questa piastrina potrete fissarla sui sistemi sui rail delle varie armi e quindi avere una soluzione da poter aggiungere e togliere con facilità in questo caso non ci interessa quindi lasciamo tutto qui e procediamo al montaggio del nostro red dot sull'arma ok procediamo quindi al montaggio di questa benedetta ottica sulla piastrina dunque guardando il bugiardino e in corrispondenza del nome dell'ottica individuiamo due sistemi di fissaggio il numero 2 e il numero d quindi d e 2 perfetto dove d sono dei centraggi vi rifaccio vedere che servono appunto per mantenere centrata l'ottica sulla staffa sono questi qua e andranno posizionati in questi punti quindi uno e due il numero 2 invece sono le viti di serraggio che andranno chiaramente fissate nei relativi fori in corrispondenza di questi buchi filettati quindi vado ad appoggiarmi piano ok troviamo dovrebbe essere questa la chiave che viene data in dotazione perfetto io non sto mettendo frena filetti ma è un montaggio provvisorio il mio per cui dopo andrò a metterlo a posto per cui quando andate a sistemare la vostra ottica ricordatevi di mettere una goccia di freno filetti queste viti come tutte le ottiche hanno un sulle istruzioni prevedono una una coppia di serraggio che va fatta chiaramente con uno strumento apposito io uso l'occhiometro e l'occhiometro dice che ok ci siamo perfetto ma adesso ne approfittiamo per lanciare un nuovo prodotto con relativa promo a voi dedicata si tratta delle nuove guancette in tecnopolimero prodotte da toni system qui li troviamo presentate senza confezione perché le utilizzate per fare tutte le varie prove e devo dire che sono rimasto stupito all'inizio ero molto scettico per una guancetta in plastica invece mi sono ricreduto si tratta di una guancetta molto leggera con un'ergonomia differente dalle precedenti ma comunque già validata anche per la categoria production dell'ipsc quindi utilizzabile in ogni disciplina e contesto la particolarità è data da questa nuova trama chiamata track grip che aumenta il grip in maniera pazzesca il motivo è dato dal fatto che questo disegno brevettato oltre a presentare dei rilievi marcati è stato studiato posizionando gli stessi in maniera da contrastare gli effetti di rilovamento e rinculo questo produce un aumento del grip nella fase di sparo veramente percettibile un'altra cosa carina che mi sento di segnalare è legata alla particolarità del materiale avendo dei pori grossi a dispetto dell'alluminio con cui sono fatte tutte le altre guancette per esempio qui con la mano bagnata prova fatta per simulare la mano sudata nel periodo estivo cosa che a me dà parecchio fastidio il grip non si riduce sembra quasi di avere in mano la magnesite saranno corredate delle proprie viti di fissaggio e saranno disponibili anzi sono disponibili per un po tutti i modelli d'arma quindi basterà segnalare e scegliere quella che interessa a voi la colorazione invece è unica questo grigio che avete appena visto arriviamo quindi alla promo abbiamo una promo con un prezzo speciale per solamente 30 pezzi quindi i primi 30 di voi interessati che scriveranno una mail a info chiocciolapfshooting.com a fronte di una donazione di 70 euro comprese spese di spedizione avranno la possibilità di avere le guancette per la pistola che chiederanno queste guancette costeranno 89 euro più spedizione e ripeto in promo siamo a 60 euro più spedizione quindi 70 euro totali e ripeto è una cosa limitata per soli 30 pezzi quindi chi interessato scriva info chiocciolapfshooting.com ciao ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti